In questa puntata Progetti per promuovere la cultura Parco di Massacciuccoli, via libera al bilancio economico Prorogare le restrizioni per i veicoli inquinanti a Firenze Il Consiglio prende le distanze dalle dichiarazioni di Matteo Renzi sull'Arabia Saudita Risoluzione unanime per rafforzare la promozione della lettura nelle scuole E la possibilità di consentire le uscite didattiche per l'accesso ai musei del proprio territorio Due settori di intervento, la lettura e la frequentazione dei luoghi e delle istituzioni museali e culturali in genere Sulla lettura si propone, si impegna la Giunta a estendere e promuovere il progetto Leggere Forte Già attivo, che riguarda la lettura ad alta voce a bambini fin dall'età più piccola Perché è un progetto che è dimostrato scientificamente, favorisce lo sviluppo delle facoltà cognitive E poi si propone di introdurre analogamente a quanto accade in molti paesi del nord Europa Ad esempio, la mezz'ora di lettura silenziosa in avvio della giornata scolastica Questo per i ragazzi più grandi che sono in grado di condurre una lettura individuale e privata di loro libri Questo per portare la lettura individuale ad avere cittadinanza piena nella pratica Nell'abitudine di comportamento della frequenza dello spazio scolastico Promuovendo in questo modo appunto la lettura in generale La mozione poi aveva un contenuto riguardante lo svolgimento delle lezioni Che hanno un contenuto più legato alla storia dell'arte, alla storia culturale dei territori Promuovendo, invitando le scuole a promuovere iniziative che facciano svolgere quelle lezioni In contesti diversi dalle aule, in musei, in teatri, in luoghi monumentali Questo perché può consentire anche di affrontare meglio questo tempo di pandemia Qualora per fortuna si potesse continuare ad avere la didattica in presenza E qualora disporre di spazi alternativi in cui appunto stare più distanziati E poter fare lezioni che hanno nel contesto maggiore fonte di ispirazione Secondo noi potrebbe essere un buon modo per fare meglio scuola Ma anche per affrontare meglio questo frangente difficile della scuola in tempo di pandemia L'aula unanimemente ha approvato e quindi siamo stati molto soddisfatti del lavoro fatto in commissione È stata una proposta che è partita da varie audizioni Con persone che già avevano messo in atto il progetto Leggere Forte È stata discussa in commissione, sono state apportate delle modifiche migliorative Tra cui quella che ha fatto la Presidente Giacchi Di portare anche gli studenti nei musei a fare lezione Per lo meno di storia dell'arte In più io avevo proposto ed è stato accettato Di fare entrare nelle scuole Associazioni, persone dello spettacolo, del territorio Per poter dare un contributo proprio a Leggere Forte Approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico 2020 e la proiezione triennale 2020-2022 Del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Allora c'è stata nell'audizione che abbiamo avuto con il Direttore e il Presidente del parco Ci sono state illustrate tutte le iniziative Voi ricorderete e comunque ricordiamolo che nel 2014 il parco è stato commissariato Da quell'anno è iniziato un lavoro importante di revisione delle spese Motivo per il quale non è stato ancora approvato il bilancio 2019 Nonostante l'approvazione del pluriannale 2022 Perché la Regione aveva chiesto di verificare la valutazione per esempio di alcuni aspetti Molto importante quello del personale che aveva causato all'epoca il commissariamento dell'ente Il Direttore e il Presidente ci hanno messo in evidenza un gran lavoro che è stato fatto Per la ricostruzione di alcuni passaggi che mancavano La messa in sicurezza di alcuni aspetti che per noi sono quelli fondamentali Cioè capire come e in quali modi, con quali risorse Si prova a rilanciare tutto quel complesso Che per noi è un punto di riferimento importante dal punto di vista Non solo della manutenzione della biodiversità Di tutte le vocazioni che il parco ha Ma anche dal punto di vista attrattivo turistico Insomma è un territorio di straordinaria eccellenza Abbiamo visto come in questi ultimi due anni si è lavorato molto Per provare a recuperare del gap che c'era stato anche dal punto di vista degli investimenti Abbiamo condiviso anche con il Direttore e con il Presidente Che su questo rilancio bisogna che la Regione attraverso i suoi componenti nei consigli Lavori attraverso un sistema anche di vigilanza Che il Consiglio regionale farà in quei territori e in quelle azioni Passato il Covid accoglieremo con grande soddisfazione L'invito del Presidente a visitare quei luoghi A capire come supportare e aiutare Il momento è di assoluta difficoltà È evidente che il parco ha subito dei danni importanti nell'ultimo anno Perché non si è mosso nessuno Perché è stato più complicato fare le attività e fare le azioni Non solo di promozione ma anche di sistemazione Quindi usciti dalla pandemia proveremo a far tornare il parco A quello ruolo centrale di sviluppo Non solo della biodiversità Piuttosto che di tutto quello che viene fatto all'interno del parco Ma anche un polmone per l'attrazione turistica del territorio Oggi è arrivato in aula il bilancio previsionale del 2020 Quindi arriva con un anno di ritardo Con oltre un anno di ritardo E peraltro non è stato ancora approvato il bilancio d'esercizio del 2019 Questo significa che quel parco non ha capacità di organizzare il proprio lavoro Non ha capacità nemmeno di poter avanzare delle proposte E portarle a termine in maniera organica e omogenea Perché è vero che si può lavorare in dodicesimi Capiamo che quel parco è stato commissariato proprio per problemi che ha avuto in passato con i conti Ma così non riusciremo mai a ripartire realmente su un pezzo di territorio che è fondamentale e importante Su questo atto noi abbiamo collegato poi una proposta di risoluzione Che è stata approvata all'unanimità Che trattava la parte del parco che riguarda il lago di Massaciuccoli Ecco, quella parte lì è l'area umida più grande della Toscana È praticamente tema di discussione all'interno del Consiglio regionale Anche della scorsa legislatura Abbiamo approvato tantissime mozioni Che andavano dal recupero delle bilancio, dal ricovero dei barchini Alla qualità dell'acqua, alla microcistina Piuttosto che ai temi che purtroppo ci sono ancora Delle bonifiche di alcuni territori Visto che in alcune zone abbiamo ancora sedimenti di rifiuti che cadono nell'acqua Ecco, siccome ci sono tante mozioni approvate E' stata approvata nei cinque anni precedenti Anche portate da me Abbiamo chiesto di far venire in commissione I due assessori Monni e Baccelli Per cercare di risolvere quelle problematiche Che ormai escono dalla commissione In cui ero proprio con Monni e Baccelli La scorsa legislatura Che loro bene conoscono Ma che ora agli atti devono seguire anche dei fatti Nel parco di San Rossore, Miglialino e Massasciuccoli Insistono moltissime attività economiche Penso all'ippodromo, ai centri visite Ma anche ai ristoranti, ostelli e varie altre attività Che come tutte le attività scontano la crisi dovuta alla pandemia Alla riduzione del 70-80 Anche 100% dei guadagni In questo caso la Regione Toscana può intervenire direttamente Senza chiedere ad altri di farlo Ovvero riducendo i canoni di concessione o di affitto Mi sembrerebbe un'iniziativa semplice, scontata Ma soprattutto giusta Ovvero a fronte di un calo drammatico e importantissimo Dei visitatori e quindi dei clienti Di ridurre conseguentemente anche i canoni di affitto e di concessione Per questo ho presentato un ordine del giorno In questo senso collegato al bilancio del parco di San Rossolo, Migliorino e Massaciucco Un bilancio tra l'altro abbastanza strampalato Che fa acqua da tante parti Che arriva in grave ritardo Mi dispiace molto che la maggioranza abbia votato contro Perché si fa con una mano Ci si straccia le veste per le attività che sono in crisi Si fa appello al Governo e ad altri enti che intervengono Poi quando può essere la Regione a intervenire in maniera diretta Diminuendo per esempio canoni di affitto e di concessione Invece si fa come Ponzo Pilato Si ci se ne lava le mani e non si interviene La sospensione delle restrizioni alla circolazione dei veicoli diesel Nella ZTL Fiorentina deve essere prorogata D'intesa con il Ministero Fino al termine della pandemia Per non colpire ulteriormente le categorie economiche E' questo l'impegno che il Consiglio regionale chiede al Presidente e alla Giunta Con una mozione approvata all'unanimità Il Presidente e la Giunta regionale Devono prendere le distanze da tutti quei paesi In cui vengono violati i diritti umani E devono dissociarsi dalle posizioni di plauso di Matteo Renzi Al regime saudita Lo prevede una mozione del Movimento 5 Stelle Ed emendata dal PD Approvata dal Consiglio regionale a maggioranza Il nostro spirito non è mai di fare documenti Contro qualcuno Per l'amor di Dio Ci sono degli atti che vengono presentati All'attenzione del Consiglio regionale E con responsabilità Noi cerchiamo di analizzarli Cercando di entrare nel merito Lasciando fuori poi anche valutazioni Che possono accompagnare alcune riflessioni Che sono patrimonio magari di gruppi Che presentano questi atti Noi abbiamo cercato anche con una serie di emendamenti Non dico di migliorare Però di andare a cercare di portare un contributo Su un atto che poi avete visto È stato approvato a maggioranza dall'Aula Allora la mozione voleva prendere le distanze Dalle frasi veramente imbarazzanti Pronunciate dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi In una trasmissione tv in Arabia Saudita Nei confronti del principe Mohammed bin Salman Che ricordiamo a tutti È stato lodato non solo come suo amico personale Ma anche come principe illuminato Rappresentante di un rinascimento dell'Arabia Saudita Rinascimento di cui non si ha traccia Teresa Fornaro Ricercatrice all'INAF di Firenze È l'unica italiana tra i 13 scienziati Che partecipano alla missione Mars 2020 Claudia Sala Responsabile del Mad Lab di Toscana Life Science Con il suo gruppo di ricerca Ha individuato e brevettato per primo in Italia Gli anticorpi monoclonali Per la cura dell'infezione da virus SARS-CoV-2 Elisa Volpi Fiorentina Ricercatrice all'Università di Ginevra Ambra Sabatini Atleta A 19 anni Ha fatto il record del mondo sui 100 metri Nella categoria T63 In cui gareggiano gli atleti Che hanno subito l'amputazione sopra il ginocchio E parteciperà alle Paralimpiadi di Toscana In Tokyo Chiara Sacco, campionessa di canottaggio Sono queste le cinque giovani donne Che il Consiglio regionale Ha voluto premiare nella giornata dell'8 marzo Ma in un giorno come questo abbiamo voluto premiare Cinque donne che stanno portando in alto Il nome della Toscana, dell'Italia, nel mondo Ognuna nella loro disciplina Nella ricerca, nello sport, mondo culturale Noi in questo momento vogliamo mandare un messaggio Un messaggio forte di speranza Che la Toscana deve ripartire guardando al futuro Con gli occhiali delle donne Io penso che in un momento come questo Dobbiamo mettere in campo risorse esattamente in questa direzione La regione toscana ricorda con un libro L'inizio del lockdown il 9 marzo 2020 Lockdown un anno dopo Questo il titolo della pubblicazione fotografica Curata dal Consiglio regionale È un modo per dire grazie alla pazienza Che hanno avuto le tante cittadine E i tanti cittadini della Toscana È un modo per ringraziare gli operatori Che sono stati in prima linea I sanitari, il mondo del volontariato Gli infermieri Coloro i quali mentre noi eravamo chiusi in casa Hanno tentato in tutti i modi Di salvare la vita a migliaia e migliaia di persone È un po' un ricordo per immagini Di come è cambiata la nostra vita Dalle piazze vuote Alle terapie intensive piene Ma è anche un segnale di speranza La speranza che ci dà Toscana Life Science Con gli anticorpi monoclonali Le prime vaccinazioni Insomma, in questo libro Troverete il racconto Fatto per immagini di quest'anno Un racconto difficile Un racconto di sofferenza Un racconto purtroppo Di migliaia di morti Un racconto che speriamo Di non dover far più Tra qualche settimana Tra qualche mese Possiamo dire che È iniziata una fase nuova Una fase di speranza e di ripartenza Un racconto di sofferenza Devare il racconto di sofferenza Un racconto di sofferenza Un racconto di sofferenza Diısı Grazie a tutti.